ok perfetto direi a questo punto l'ora di cominciare buongiorno e benvenuti a tutti sono gianluca pucci manager dell'area pre sales per il territorio italiano e nuovamente qui ritrovati per uno dei nostri consueti appuntamenti ciclici inerenti alla nostra tecnologia oggi incentrato sui moduli dell'ultima tecnologia annessa al nostro portafoglio parliamo quindi della watch car endpoint security abbiamo fatto diverse attività abbiamo parlato in maniera molto diciamo molto esaustiva dell'endpoint protection dell'endpoint remediation e dell'annessione quindi delle pdr delle due tecnologie ovviamente chiaramente sono tecnologie che arrivano dalla recente acquisizione del vendor panda di cui tutti ovviamente sapete a questo punto vita morte miracoli e come chiaramente c'era da aspettarselo l'abbiamo a ness graduato a mente anche nei nostri sistemi nello specifico nel watch car cloud quindi restyling a livello di nomenclatura era dovuto doveroso e chiaramente c'è ancora un parallelismo per non per dare modo ovviamente a tutti gli utilizzatori di diciamo di non avere problemi per uno swap immediato su entrambe le piattaforme però chiaramente in essere già ormai da tempo la parte di endpoint protection e la parte di endpoint remediation erano già gestite dalla nostra piattaforma watch car cloud e proprio di recente meno di una settimana fa abbiamo annesso poco più insomma di una decina di giorni fa abbiamo annesso anche tutta la restante parte di moduli di cui oggi andremo a fare una panoramica sostanziale per prendere confidenza con lo strumento e per ricordare diciamo le principali funzionalità che che espletano chiaramente non sarà un drill down tecnologico avanzate approfondito quello come sempre sapete benissimo che ce lo potete chiedere in maniera diretta contattandoci quindi vi dedicheremo molto più del tempo relativo a questi a questi nostri incontri ma sarà diciamo un'occasione per andare a vedere diciamo la completezza della modulistica e andare a vedere appunto qualche curiosità relativa al loro inserimento nel watch car cloud e a loro e al loro funzionamento due piccole note tecniche organizzative più che altro specifiche per questa per questo webinar come sempre la sessione è registrata quindi poi tempo tecnico di uploadarla nel nostro canale youtube watch car italia e avrete poi in modo sicuramente quindi di vederla in in differita o rivederla diciamo così se qualche magari qualche spunto non non fosse stato chiaro secondariamente per l'occasione vi chiedo la cortesia per questo webinar per motivi organizzativi di veicolare tutte le domande attraverso la chat non vi sarà diciamo in questo caso non vi sarà per darvi la risposta più completa possibile quindi raccogliere informazioni analizzare casistiche visto che quando si coinvolge diciamo così sostanzialmente l'end point la diciamo la raccolta di informazioni aggiuntive e di assoluto riguardo quindi ho preferito chiedervi la raccolta delle domande via chat sarà poi in modo mio mio onere diciamo così andare a raccoglierla in un file che invierò a tutti voi affinché la conoscenza della domanda e della risposta sia poi ovviamente annessa a tutti quanti voi in maniera tale che avrete lo storico ovviamente delle domande arrivate durante durante questa sessione quindi vi risponderò ovviamente poi con una mail in un successivo momento sicuramente non non sarà fra una settimana fra un mese sarà sicuramente assolutamente assolutamente prima e se poi comunque dove doveste avere poi delle domande successive magari al frangente di questo webinar come sempre singolarmente potete contattarci ai riferimenti che già conoscete quindi nel mio caso gianluca.pucci.com quindi vi ringrazio per la cortesia vi ripeto veicolate le domande esclusivamente via chat quindi non ci dedicheremo lo spazio solito alla fine del webinar ma riceverete assolutamente risposta condivisa tutte le domande di tutta la platea al fine di chiaramente avere una risposta per tutti e la conoscenza della domanda per tutti una volta raccolta appunto le informazioni le informazioni necessarie. Allora vi dicevo prima che diciamo già da un po' il nostro WatchCar Cloud arriva ad ospitare la parte relativamente a tutto il portafoglio diciamo inizialmente a parte del portafoglio endpoint quindi attraverso il menu specifico endpoint io andavo avevo la possibilità di andare ad accedere alla console classica andando a vedere quindi in questo caso il mio licensing era l'epdr l'equivalente della vecchia nomenclatura adaptive defense 360 per annettere diciamo per proteggere il mio pc con le componenti endpoint protection più endpoint remediation advanced contro le minacce avanzate persistenti. Inizialmente il WatchCar Cloud proferiva ovviamente solo questa possibilità chiaramente adesso si è andato ad estendere a tutta la restante parte del portafoglio di tool di diciamo così applicativi aggiuntivi utili ovviamente a arricchire ancora di più per certi versi e controllare ancora di più la sicurezza del mio sistema la movimentazione dei dati e le informazioni che il sistema stesso fruisce quindi alla stessa identica maniera all'atto del consultazione dell'inventory quindi diciamo come funziona di principio l'allocazione dei servizi per un cloud service provider mi posiziono sull'area overview che identifica la root service provider vado su inventory e trovo chiaramente tutta la pletora di servizi sostanzialmente inerenti all'endpoint. nello specifico sotto endpoint license troverò a questo punto tutte le licenze sostanzialmente tutte le licenze acquisite e registrate in termini term license oppure acquisite attraverso il servizio mssp che dovrò quindi allocare ai miei subscriber così come sotto indicato quindi andando a avere il layout della licenza assegnata nel mio caso vedete il mio tenant per i servizi aggiuntivi non ha ancora la licenza assegnata perché ovviamente non ho avuto modo in questi giorni di farmi mandare una licenza effettiva tra una licenza effettiva duratura e allora però ho attivato semplicemente le trial al fine poi di mostrarvi ovviamente il loro contenuto dei moduli aggiuntivi quindi l'oggetto del programma di oggi vale a dire data control quindi watch current point data control watch current point full encryption watch current point patch management e watch current point advanced reporting tool quindi questi sostanzialmente sono i moduli aggiuntivi che hanno diciamo non dico subito ma che sono stati ovviamente traslati nella nuova piattaforma annettendo diciamo la nomenclatura facendo parte della nomenclatura west che vi ricordo essere watch current point security e quindi a tutti gli effetti facenti parte della completezza del portafoglio delle nostre soluzioni endpoint molto carino vi diciamo approfitto per farvi vedere qualora voleste far provare tutta la pletora dei servizi nella area administration sotto il menu trial avete lato overview avete la possibilità di accendere per tutti i vostri tenant l'utilizzo delle trial quindi dei security service lato trial e andando quindi ad annetterli volta per volta quindi per esempio dovessi farlo qui vedere tutti i servizi disponibili in appunto in trial che ovviamente non sono stati già attivati in in precedenza come vedete nel mio caso ho attivato patch management full encryption data control ed advanced reporting tool qualora avesse avuto una licenza duratura ovviamente venendo dalle formule commerciali opportune quindi la term license la licenza acquisita a tempo definito oppure che arriva sostanzialmente dalla dalla console mssp avrei ovviamente chiaramente visto qua non la trial ma nella parte di allocazione per quanto riguarda il mio tenant specifico avrei visto sostanzialmente per la parte appunto di inventory sotto allocation ovviamente tutte le anche oltre alla epdr e alla epdr che vedete correttamente licenziata avrei visto anche le altri servizi licenziati e non e non in trial quindi meccanismo è uguale a tutto il meccanismo di allocazione è uguale a tutti i nostri servizi quindi che siano outpoint che sia access point che siano firebox che siano tdr che sia appunto end point tutti i prodotti sfruttano la stessa filosofia di allocazione del del watch car cloud andiamo a questo punto a dare un'occhiata una volta visto l'approvvigionamento e diciamo così la metodologia di allocazione del dei vari servizi andiamo al dal punto di vista tecnologico andiamo a vedere a fare un salto di overview nelle singole console di gestione dei vari servizi dando modo diciamo di illustrare nuovamente che cosa fanno e a cosa servono e vedere diciamo il layout un pochettino dei menu dei menu principali allora quindi mi posiziono sul mio tenant e apro la parte di configurazione relativa alla part end point lato agent quindi il mio unico al momento il mio unico pc sostanzialmente da cui poi ho tra virgolette ho installato l'agent e quello che vedete qui quindi andiamo a vedere a breve il il nome di questo host dato solo un attimo di tempo alla alla macchina di rispondere all'interrogazione un pochettino sotto pressione in questi giorni e per vedere appunto che il nome del desktop secondo a ecco qua memorizzate il nome del desktop giusto poi per vedere che all'atto pratico sarà la macchina su cui poi saranno stati reportizzati tutti i dati provenienti dalle informazioni vedete che correttamente anche ribrandizzato l'agent è stato installato correttamente nella macchina quindi watch current point e pdr è l'unico agent che la macchina necessita anche per la fruizione e il funzionamento degli altri moduli quindi tutti gli altri moduli non necessitano parliamo quindi di full encryption di data control di advanced reporting tool e di patch management non necessitano di aggiunte ulteriori rispetto a quello che l'agent classico proveniente nei casi dell'employment protection e nei casi delle pdr sfruttando appunto lo stesso lo stesso agent dal punto di vista dell'associazione il patch management e il full encryption di cui adesso andremo a parlare possono tranquillamente essere associati anche al solo alla sola parte endpoint protection mentre data control e advanced reporting tool necessitano quantomeno di una soluzione endpoint remediation quindi di una soluzione edr o di una soluzione epdr allora partiamo appunto dalla console di configurazione andando proprio a partire dal sistema di encryption quindi dal sistema di full encryption di che cosa si tratta? si tratta di una funzionalità che l'agent acquisisce che permette di andare a crittografare l'unità disco del mio sistema su piattaforma esclusivamente windows andandola a proteggere o quantomeno richiedendo una autenticazione successiva nel momento in cui dovesse venire rilevata una movimentazione strana di cui poi andremo a dare a dare anche sostanzialmente a dare anche definizione quindi nello specifico io purtroppo per questione di tempo non l'ho ancora attivata l'ho semplicemente installata sul mio client quindi nell'area di status se mi posiziono quindi nella corrispondente parte di monitoring se mi posiziono sulla parte di full encryption vedete che un pc è rilevato che poi il mio client che avete visto prima è stato rilevato ma non ho ancora attivato ovviamente l'encryption del disco allora si basa su tecnologia bitlocker quindi tecnologia bitlocker è ovviamente il pilota sostanzialmente della nostra tecnologia di management quindi all'atto pratico l'esecutore materiale della funzionalità di encryption è il bitlocker quello che il full encryption fa è gestirlo, comandarlo e detenere nel cloud tutte le chiavi di encryption al fine di una gestione centralizzata quindi questo è sostanzialmente lo schema di funzionamento a seconda del sistema operativo e della piattaforma hardware le metodologie con cui bitlocker andrà a richiedere l'autenticazione alla macchina per effettuare appunto il protocollo di encryption potranno essere diverse quindi ci sarà il TPM per le macchine quindi il Trusted Platform Module nelle macchine che lo supportano che dovrà essere comandato a livello di BIOS attivato in maniera semplice o attivato assieme ovviamente ad una password quindi durante lo svolgimento del boot chiaramente questo pin verrà richiesto per ovviamente dare modo a Bitlocker di interagire e di cifrare o decifrare chiaramente il disco il disco crittografato poi a seconda dei sistemi operativi e di altri scenari dove magari il chipset TPM non è supportato posso andare a proteggere, a far interagire Bitlocker attraverso una semplice password piuttosto che l'inserimento di una chiave USB quindi questi sono ovviamente tutti i dettagli descritti all'interno del nostro sistema diciamo della nostra documentazione ma che sposano ovviamente tutte le caratteristiche dal punto di vista della configurazione quindi ovviamente qua lo status mi mostra la macchina sottoposta a controllo qualora fosse disco cifrato ovviamente vedrei un'altra colorazione quindi vedete una macchina e un computer con un disco non cifrato dal punto di vista della configurazione quindi mi sposto sul tab computer vedo sostanzialmente appunto qui tra le altre caratteristiche il pc su cui è stato montato sostanzialmente il servizio se vado ad espanderlo e mi sposto al fondo qui potrò ottenere nel caso in cui il disco fosse correttamente cifrato dalla funzionalità full encryption potrei ottenere proprio perché fa quello di mestiere quindi il management della chiave di cifratura potrei ottenere l'encryption key in maniera molto semplice con un link qui associato la parte di settaggio generale quindi di profilo generale applicato mi consente di qua c'è il default profile ora non avendo io ancora diciamo settato questa parte chiaramente ho lasciato il default profile che non si può modificare quindi per vedere tutte le funzionalità creiamo un nuovo profilo andiamo a vedere appunto che cosa può essere andare ad essere perpetrato quindi andare a crittografare tutti i dischi del computer chiedere sostanzialmente una password per l'accesso al computer questo ovviamente dipende a seconda delle modalità di autenticazione che bitlocker andrà a imporre al proprio al proprio hardware e la possibilità ovviamente di andare a crittografare anche le unità esterne quindi quelle inserite se ovviamente riconosciute come disco se inserite nel nel sistema quindi questo profilo sarà il profilo applicato al pc quindi se in questo caso ovviamente c'è un device solo a cui applicato di default ovviamente creando un profilo personalizzato lo potrò associare al pc al pc di turno ripeto se poi vorrete vedere ovviamente come funziona e volete vedere una demo più specifica siamo chiaramente come sempre a vostra a vostra completa disposizione ovviamente la parte di settaggio è la stessa parte che dal watch car cloud si ottiene andando nell'area configure e andando nell'area endpoint dove chiaramente c'è lo swap diretto esattamente su settings e quindi qua vado a selezionare diciamo quello che mi interessa andando a vedere un altro servizio quindi riapriamo ancora una volta la finestra di configurazione quindi questa volta partiamo da qua e andiamo a parlare del patch management quindi per patch management si intende sostanzialmente la possibilità grazie allo stesso agent di andare a monitorare i sistemi operativi in questo caso windows completarli con tutte le patch di sicurezza quindi il fine del grosso del sistema e quindi quello di evitare che vulnerabilità note rendano il sistema magari esposto ad un certo tipo di attacco quindi se vogliamo essere diciamo se vogliamo fare un paragone è sostanzialmente un lavoro più puntuale che viene fatto con l'end point paragonabile alla detection fatta dall'intrusion prevention a livello a livello perimetrale solo che questa volta chiaramente vado a saldare il conto direttamente sull'end point perché posso programmare gestire schedulare o applicare direttamente e avere un monitoring completo di tutto quello che è il patching del sistema non solo per quanto riguarda il sistema windows diretto ma anche per quanto riguarda tutti i software che sono residenti all'interno andiamo a curiosare prima sulla parte di monitoring quindi andando a vedere sulla parte di status selezioniamo patch management e andiamo quindi a vedere che c'è in questo caso un host attivato come vedete come vi potete ben aspettare è sempre il mio client che ha il patch management attivo e installato ci sono due security patch importanti e una patch non specificata quindi posso andare a cliccarci direttamente dentro e andare ovviamente poi a eseguire poter eseguire tranquillamente l'installazione della patch aggiornandola molto semplicemente qua ovviamente la dashboard mi mostra quello che è successo in una tempistica inferiore a tre giorni a sette giorni e a trenta giorni e la parte di end of life program quindi tutti i software rilevati in end of life che quindi risultano non patchati come potete ben vedere a cui dovrò ovviamente porre rimedio con l'aggiornamento a livello di funzionalità quindi mi sposto sulla parte settings in questo caso ho creato un profilo applicato dove ho detto sostanzialmente quindi come vedete il mio computer è applicato a questo profilo che non è più quello di default cliccandoci vi viene chiaramente mostrato dove sono andato a comandare sostanzialmente quello che io voglio implementare dal punto di vista del patch management a questo pc stiamo parlando di disabilitare cosa suggerita il windows update perché se ovviamente decido di controllare gli aggiornamenti io in maniera tale che non siano troppo invasivi non lo lascio fare direttamente al sistema con l'automatismo del windows update cercherò automaticamente delle patch lo farò una volta al giorno per tutti i livelli sostanzialmente qui potete anche poi andare a lavorare di tuning al fine di trovare magari un profilo meno invasivo per il vostro sistema per la vostra banda vi ricordo che anche la soluzione Watch Car & Point ci permette di istituire a livello network anche un repository unico centralizzato che lavori da profse che quindi centralizza gli aggiornamenti locali anche per le altre macchine quindi il lavoro lo fa uno e le altre macchine sfruttano quel sistema interno per aggiornarsi questo è il profilo che posso creare quindi ovviamente da qui andranno a cercarsi a presentarsi le varie patch lato task invece posso andare a sostanzialmente quindi aggiungendo un task di installazione della patch in questo caso posso andare quindi a programmare anche che come vedete tutti i sistemi software da noi supportati da noi riconosciuti possono andare ad essere inclusi dal punto di vista della dell'aggiornamento quindi come vedete non ci limitiamo esclusivamente a vedete il task qua ci permette anche di personalizzare in generale tutti quei flag che io nel profilo avevo attivato perché il task sovrascrive chiaramente il diciamo così il profilo generale che risulta essere in questo caso continuativo il recipiente ovviamente ci farà permettere di inserire pc ovviamente soggetti soggetti al task quindi andiamo a coprire il sistema operativo e ovviamente tutta la parte software annessa come vedete andiamo a proporre il sistema grazie anche alla possibilità di poter fornire un automatismo in termini di salvataggio ovviamente di tempo e chiaramente poi di lavoro per chi queste cose normalmente le deve andare a fare poi in maniera in maniera manuale proseguiamo con l'altro modulo data control, data control è il sistema che ci permette di andare a controllare sostanzialmente i nostri dati diciamo che possiamo definirlo come una data loss detection nel senso che andremo a monitorare dopo aver fatto un inventario sostanzialmente dei file totali di cui adesso andremo a parlare che posso andare ad analizzare e ne andremo a monitorare eventualmente la cancellazione piuttosto che lo spostamento piuttosto che qualsiasi attività non viene fatta una prevention di una exfiltration quindi non viene impedito che la sfiltrazione del dato venga fatta però ovviamente grazie alla notifica io posso assolutamente rendermi conto e costruire la cronostoria delle attività fatte su quel tipo di file quindi qui ho la dashboard dove mi fa vedere il mio solito classico computer con il tool installato relativamente al data control, il sistema aggiornato, l'indicizzazione dei dati che sta avvenendo sta progredendo quindi quelli cercati, quelli monitorati e l'inventario totale ora l'ho lanciato da poco quindi non è ancora popolata andandola a vedere dal punto di vista della configurazione mi sposto quindi su settings anche in questo caso ho fatto un profilo sostanzialmente dove sono andato a dire ovviamente popolato dal mio pc ho chiaramente data control il profilo è my settings che sono andato appunto a vedete qua c'è un piccolo alert che vi dice sostanzialmente di dover aggiornare installare il microsoft filter pack al fine di avere il sistema compliant e compatibile quindi come vedete in avendo fatto il filtro io non ho in questo momento pc che senza microsoft filter pack quindi come avete visto prima dallo status sono perfettamente compliant e posso andare a lavorare con il data control quindi ritorniamo sul nostro profilo e andiamo a vedere attivate tutti i flag in maniera tale da costruirvi il vostro inventario con le possibili esclusioni o le possibili aggiunte di file andate a lavorare su un rule based monitoring quindi questi file sono file sostanzialmente dove la compatibilità permette non solo di lavorare sull'estensione ma anche sul contenuto del file quindi la manipolazione eventuali di parole, di dati, di contenuti specifici su file che abbiano questa estensione ecco qualora magari ci fossero dei file non con questa estensione che io vorrei comunque monitorare magari per esempio che ne so un facciamo un esempio un dvg un file destinato a autocad potrei andare a inserirlo manualmente con una nuova rule lavorando in questo caso per estensione quindi non potendone andare a guardare il contenuto lavorerò per estensioni in quel caso non potrò leggerne una variazione di contenuto ma lo potrò assolutamente tenere sott'occhio quale estensione per me è molto importante quindi tutti i file dvg chiaramente ci sarà sicuramente qualcosa che mi interessa pur non potendone controllare la manipolazione in termini di contenuto cioè avere notifica anche se una parola è stata cambiata potrò sicuramente monitorarli per estensione e quindi andare a preoccuparmi qualora una variazione venga fatta ultimo l'advance reporting tool quindi abbiamo visto tutti i moduli abbiamo visto il data control, il full encryption, il patch management ovviamente una cosa che mi è piaciuta molto di questa integrazione lo dico sempre è stata il portare nella nostra nomenclatura quotidiana di WatchCloud il portare un termine che mi piace molto mi è sempre piaciuto sin da quando l'ho sentito le prime volte all'interno delle corse automobilistiche che è la telemetria quindi questo sistema è in grado di raccogliere dagli end point la telemetria ovvero tutto l'auditing relativo a tutti i processi di sistema e a tutte le funzionalità e mostrarlo in maniera adeguata al fine che possa diventare assolutamente utile anzi indispensabile per andare a fare un'analisi forense una ricostruzione di un processo o tutto quello che diciamo un'attività malevolo o tutto quello che ovviamente è successo quindi tutte queste funzioni sono espletate dall'advance reporting tool anche esso ovviamente è soggetto a license è caduta la sessione, andiamo a rinunciarla e che quindi racchiude ovviamente colleziona i dati provenienti quindi in questo caso ricordo il licensing richiede quanto meno che ci sia l'EDR quindi corrispondente all'EDR o all'EPDR e ci mostra sostanzialmente vedete anche la console è stata ribrandizzata chiaramente ormai l'associazione è avvenuta e mi dà modo di andare a vedere assolutamente delle dashboard quindi per esempio andare a monitorare se gli eventi per secondo possono diventare preoccupanti quindi andare a vedere se un host, un device è sottoposto a un certo o la pletora dei device sono sottoposti a un certo numero di eventi per secondo troppo troppo rilevanti, posso andare a monitorare sostanzialmente nel tab advanced reporting tool il comportamento delle applicazioni quindi andare a vedere grazie a questo simpatico anagramma andare a vedere sostanzialmente le applicazioni riconosciute quelle vulnerabili, quindi quelle rilevate con vulnerabilità matchando ovviamente con il patch management e andare quindi anche in drill down cliccandoci due volte a fare un overview specifica su tutti i processi di sistema a livello applicativo posso ovviamente, qui non ce ne saranno posso ovviamente andare a monitorare i security incident quindi avere sicuramente con la possibilità di fare una query decisamente stesa perché i nostri prodotti permettono di arrivare a fare una query annessa già nella soluzione fino a un anno quindi questo diventa molto molto importante per la visualizzazione del nostro dato e soprattutto allargando un po' la finestra ho la possibilità infine di andare a fare delle ricerche più approfondite per esempio andando a monitorare a livello di filtri tutti i socket, tutte le sessioni aperte dal mio sistema quindi se seleziono socket partirà un filtro dove andrò a vedere diciamo un po' come siete abituati a fare per i log del firewall ma in questo caso partendo direttamente, essendo il monitor fatto direttamente dalla macchina tutti i socket, tutte le porte aperte dal sistema relativamente all'indirizzo IP all'utente specifico all'hash all'applicazione che ha aperto la porta se la porta TCP o UDP alla porta specifica e se la direzione è ancora in piedi e l'indirizzo IP di destinazione oppure magari posso andare a monitorare tornando indietro le attività effettuate sui registri quindi sempre dal client che mi viene proposto come host e andare a vedere la modifica di registro fatta sostanzialmente sul target path posso ovviamente personalizzarmi un filtro quindi posso fare veramente tantissime cose ripeto, se volete poi un drill down molto più approfondito potete assolutamente contattarci con i vostri riferimenti di turno quindi potete scrivere a me ripeto gianlucapucci.chiocciolawatchcar.com piuttosto che il vostro commerciale di riferimento passando dal distributore insomma la via che preferite io con questo ho concluso spero che sia stata utile ripeto vi ringrazio di aver veicolato le domande via chat vi lascio lascerò ancora la sessione aperta qualche secondo al fine di completare le domande poi promessa assoluta risponderò a tutti quanti con la lista delle domande delle domande effettuate per darvi ovviamente la completezza dei contenuti che abbiamo trattato grazie mille e buona giornata a tutti grazie 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 a tutti